Momenti di paura e angoscia per un bambino scomparso nel nulla oggi pomeriggio nel quartiere di San Lazzaro a Fano. Mamma e figlio erano arrivati nel centro commerciale per una visita. Il piccolo aveva chiesto di rimanere a giocare nel piazzale mentre la mamma era dal medico ma quando è uscita dall'ambulatorio ed è andata a riprendere il figlio di sei anni dove l'aveva lasciato non lo ha più trovato. Inizia a cercarlo nei negozi del centro commerciale ma quando capisce che del bambino non c'è traccia lancia l'allarme. Vengono avvertiti i carabinieri che iniziano a cercarlo in lungo e in largo. Alle ricerche partecipano almeno una trentina di volontari tra i clienti del bar, il fotografo e tutti quelli che hanno assistito alla scena o hanno incrociato lo sguardo disperato della madre. Le ricerche proseguono per un'ora sia a piedi che a bordo delle auto. Vengono setacciati il supermercato, il palazzetto dello sport, persino i palazzi lì attorno ma del bambino nessuna traccia. La tensione sale inesorabilmente. Ogni minuto che passa è un minuto prezioso da non perdere. Nel frattempo si fa buio, i pensieri si fanno sempre più cupi. Poi ad un tratto la luce. Arriva la notizia che il piccolo è stato ritrovato mentre camminava solo sulla via di casa verso il mare, una strada già battuta dai volontari anche in precedenza ma senza risultati. Ora è di nuovo tra le braccia di mamma e papà che a parte il grande spavento avranno di che raccontare a parenti amici durante le prossime festività di Natale.